Buongiorno, architettore di Brasola, architettore di medicina per l'anima, ricordo sempre il libro dell'architettore dei personaggi, ho comprato, lo leggete, ho fatto una buona recensione su Amazon. Ho tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io. Allora, oggi sta piovendo, è proprio una giornata plumbea, tutto il giorno nuvolosissimo, poi è cominciato verso mezzogiorno a piovere, adesso sta piovendo un po', piove proprio compiosamente. Quando piove c'è troppo umidità nell'aria, anche in casa, quando piove meglio non brio, bagnare, mai bagnare quando piove, c'è troppa umidità e dopo non va bene. E poi manca la luce, la luce è la principale benzina delle piante, quando c'è poca luce non bagnate. Bagnate quando c'è sole, quando c'è una bella giornata, che le piante lo sentono, quando invece c'è una brutta giornata così non va bene, non bagnate. È sempre meglio bagnare quando c'è una bella giornata, soprattutto d'inverno, d'inverno con i giorni corti, c'è già poca luce di suo, se poi bagnate una giornata piovosa, umidissima così non va bene. Ecco, voglio dire che questa settimana qua non lo abbiamo spedito, adesso è un po' casino perché c'è il 25 aprile, poi c'è il primo maggio, tutte le settimane rotte, i ponti, non lo so, adesso come spediamo, adesso vedrà il mondo come si può fare per fare le spedizioni, perché abbiamo un po' di spedizioni da fare, vediamo dai, vediamo come faremo. Comunque niente, oggi sono andato a fare l'esame, stamattina oggi sono un po' così così. Vabbè dai, a domani, arrivederci.